Napoleone imperatore, il sogno realizzato di Luigi XIV e il presagio del totalitarismo del Novecento, dei regimi totalitaristi del Novecento. Allora, il problema appunto è, infatti l'abbiamo già toccato prima nel dialogo con Tilippo e altri, il problema è chi fu veramente Napoleone, quale fu il suo effettivo ruolo storico, fu colui che portò a compimento la rivoluzione francese o colui che la affossò, che la ripudiò, che riportò tutto il lancetto della storia al 1788, cioè tornò a un nuovo regime assoluto, a una nuova monarchia assoluta, problema storiografico molto arduo, la mia opinione è iperdiscutibile, in sintesi ve l'ho scritto sulla lavagna, innanzitutto, il sogno di Luigi XIV, Napoleone fu quel capo assoluto che Luigi XIV avrebbe voluto essere, che sognava di essere, ma che in realtà, come avevamo già visto a suo tempo, non riuscì mai ad essere. Quel re sole, se vogliamo, in senso simbolico, che fu solo nominalmente, o prevalentemente, in modo nominale, prevalentemente a livello di immagine, ma non sostanzialmente. Al contrario, Napoleone fu un effettivo re sole, o comunque lo fu di gran lunga, di più di quanto lo fosse stato precedentemente Luigi XIV. Dunque, da un lato, sicuramente, il regime napoleonico rappresenta il compimento, non immediatamente, e non tanto della rivoluzione francese, quanto di quel processo storico plurisecolare di nascita, formazione e sviluppo dello stato moderno, cioè di uno stato accentrato, compiutamente, completamente accentrato. Che, certo, processo che ebbe nella monarchia assoluta, una delle sue tappe più avanzate, e che sicuramente fu teorizzato da Luigi XIV e dai suoi collaboratori, ma non realizzato, realizzato quel progetto assolutistico, cioè di effettivo, completo, capillare accentramento del potere, che fu realizzato solo da Napoleone, grazie, paradossalmente, ennesimo, ma interessantissimo, paradosso storico, grazie a quella rivoluzione che apparentemente aveva distrutto lo stato assolutistico, la monarchia assoluta, ma che in realtà lo distrugge parzialmente, l'aveva distrutto, e Napoleone lo dimostra, parzialmente ossia quanto bastava per rafforzarlo in maniera incredibile, per permettere un salto di qualità incredibile. Napoleone, in gran parte, no, certo, diventa quello che è grazie alle sue vittorie clamorose, continue, ripetute, sfolgoranti vittorie militari, più avanti lo faremo, ma quel percorso politico interno che vi ho delineato la volta scorsa, che avete studiato per oggi, che abbiamo ripetuto prima nell'interrogazione, e cioè sostegno al colpo di Stato di Frutti d'Oro nel 1997, attuazione diretta del colpo di Stato di Brumaio nel 1999, nuovo colpo di Stato nel 1802, e infine, ennesimo colpo di Stato per imporre l'impero, bene, quel percorso è possibile perché negli anni intermedi Napoleone da un lato vara dei provvedimenti interni fondamentali, che adesso vedremo, dall'altro lato continua una politica estera sempre più espansionistica, che lo porta di fatto al dominio o all'egemonia dell'intero continente europeo di esclusione fondamentalmente dell'impero russo e di esclusione della Gran Bretagna, che non è però Europa continentale. Quindi, teniamo conto, poi vedremo, è sempre in guerra, sempre in guerra, costantemente in guerra, e anche dopo, ancora di più dopo il 1804, fino alla fine, fino al 1815, fino alla sconfitta definitiva, mi va ter l'ho! Ok, allora, certo si basa sulla sua capacità militare strategica, però ve l'avevo già detto, che consiste nel fatto che prima degli altri capisce come funziona un esercito di massa, ma il lavoro sporco gliel'avevano già fatto i Giacobini e prima ancora i primi rappresentanti del terzo Stato nell'Assemblea nazionale e nell'Assemblea nazionale costituita. Allora, e quello non era poi un lavoro sporco, quello era anche pulito. Voglio dire che Napoleone, può essere Napoleone perché eredita le riforme fondamentali del 1789-1990, cioè tutte le riforme che l'Assemblea nazionale costituente aveva introdotto, le riforme di tipo liberale, la stessa Costituzione liberale del 1791, a parte la dittatura, per il resto la legislazione basata sulla proprietà privata, sulla libertà individuale, sul libero mercato. Tutto questo, Platone non... Platone... Andiamo bene. Napoleone se lo trova già fatto e non fa altro che confermarlo, che renderlo stabile, renderlo definitivo, assicurarlo, garantirlo alla borghesia francese che era la sua principale classe di riferimento, in particolare la nuova borghesia imprenditoriale, prima ancora che la tradizionale borghesia occidente. Ma si trova, naturalmente, già fatto anche il lavoro sporco, nel senso di bellico, dell'esercito di massa, perché era stato Robespierre, erano stati Giacobini a indire la leva di massa, vi ricordasse? A fornirgli lo strumento fondamentale delle sue vittorie. Napoleone con un esercito tradizionale, professionale, si sarebbe distinto rispetto a altri, ma non sarebbe mai diventato Napoleone. Poi, certo, per carità, ci mette del suo, ma voglio dire che in questo senso, se riuscì attraverso le vittorie militari, il bottino di guerra, la ricchezza che in questa maniera sempre di più, le ricchezze che in questa maniera sempre di più affluivano in Francia, da tutte le parti, da tutti gli altri paesi d'Europa, insieme alle opere d'arte di ogni genere, tutto questo potrebbe farlo grazie alla rivoluzione francese, già grazie al lavoro che aveva svolto precedentemente la rivoluzione francese, e poi, in particolare, per quanto riguarda la costruzione e l'imposizione del suo regime dittatoriale quasi totalitario, adesso poi vi spiego perché, una riforma, lui si basa su una riforma fondamentale che era stata già effettuata dall'Assemblea nazionale costituente nel 1790, vi ricordate quando erano state eliminate tutte le autonomie locali e tutto il territorio francese era stato diviso in dipartimenti tutti uguali, senza nessuna differenza, senza nessun privilegio. Ora, durante la fase comunque democratica, ma anche prima, da questo punto di vista, della rivoluzione, le autorità locali chiamano i sindaci, per esempio i sindaci delle città, i governatori dei vari dipartimenti, i giudici, erano stati resi elettivi, le autorità erano state rese elettive, ma l'apparato burocratico, l'apparato amministrativo, capillare, uguale, completamente omogenizzato, uniformato, rimane tale quale, lui che cosa fa? Toglie il principio elettivo e impone la sua scelta. in base a che cosa? Si inventa il vero, la vera tecnica di centralizzazione del potere, e cioè il sistema dei prefetti. Tutti i dipartimenti hanno come capo assoluto, hanno un mini re assoluto, il prefetto, che è scelto da Napoleone e che è revocabile in qualsiasi momento, quindi dipende, non è, capito, non è il vassallo, cioè è un funzionario assolutamente ligio, assolutamente obbediente, perché sa benissimo che appena fa qualcosa che non va, o non fa abbastanza bene quello che gli viene ordinato, salta. i prefetti poi sul mandato di Napoleone scelgono i sindaci, scelgono i giudici, non è uno Stato liberale, perché il potere giudiziario è completamente controllato dal potere politico centrale, dal governo, dal potere esecutivo, e non c'è nemmeno un potere legislativo, oppure c'è un potere legislativo puramente formale, un'assemblea che è così, scelta da Napoleone che gli serve come una sorta di camera di consiglio, tecnico, datemi dei consigli tecnici, poi decido io quello che mi pare piace, quindi tutti i poteri sono concetti, potere assoluto, legislativo, esecutivo, giudiziario, ma a differenza di Luigi XIV, sulla carta ce l'aveva anche Luigi XIV, non aveva l'apparato burocratico, non aveva l'esercito e non aveva l'apparato burocratico che gli permettessero effettivamente di esercitare in modo capillare questo potere perché comunque si scontrava con i poteri locali, con il potere del Parlamento di Parigi, con il potere del Parlamento di Bordeaux, con i privilegi municipali di Tolone, piuttosto che di Tolosa o di Lione, quelli ancora di antica tradizione feudale, spazzati via dalla rivoluzione, tutti i limiti spazzati via dalla rivoluzione, Napoleone ha un terreno vergine, libero, completamente libero da qualsiasi limite e quindi sistema dei prefetti, prefetti, sottoprefetti, autorità, sindaci e qualsiasi altra governatore, tutti militari, un'organizzazione militare, da esercito, con una disciplina militare. Chiaramente, avendo un esercito potentissimo, come poteva sconfiggere gli eserciti alleati, austriaco, russo, russiano, poteva, figuriamoci, se non poteva reprimere anche la minima sommossa. monarchici e giacobini che, vi ricordate, avevano tentato di rovesciare il direttorio, più volte avevano tentato di rovesciare il direttorio e c'erano quasi riusciti, ma non hanno alcuna possibilità. Naturalmente la burocrazia al numero proprio di funzionari aumenta enormemente. Lo Stato che costruisce definitivamente Napoleone, lo Stato moderno, supercentralizzato, si basa appunto sull'esercito e la burocrazia che dominano completamente la popolazione. Una polizia super specializzata al comando di Fouche, si scrive Fou-K-H-E, che era stato, pensate, che era stato un giacobino, che era stato appunto un sestornitore della democrazia radicale, estrema, e diventa invece proprio come dire, la faccia spietata, ma anche assolutamente efficiente del regime napoleonico. Repressione di tutte, di ogni dissidenza preventiva, cioè non aspettavano che i giacobini o i monarchici si organizzassero, prima, ogni tot ciclicamente li reprimevano a prescindere da quello che facevano, proprio per prevenire qualsiasi mossa possibile, immaginabile, controllo totale dei mezzi di comunicazione e a principale e voi direte che cosa è? Non c'era la radio, non c'era la televisione, non c'era il cinema, tutti i giornali, tutti i giornali vengono proprio eliminati, ne vengono conservati quattro, tutti i filo governativi, quindi monopolio totale delle comunicazioni, ma in realtà il mezzo di il mass media fondamentale di allora, vi ricordate, ve l'avevo già detto qual'era? Quello più diffuso, quello capillare, qual'era? La chiesa, i parroci, la rete dei parroci e come fa? Sì, certo, vi ricordate? Allora c'era stata la Costituzione civile del clero, vi ricordate che sulla carta tutti i preti diventavano funzionari dello Stato, dovevano giurare fedeltà, però metà, almeno metà del clero si era ribellato e naturalmente il Papa lo sosteneva e Napoleone da questo punto di vista è furbo, è diplomatico, nel senso che arriva appunto a un compromesso con il Papa, firma un concordato e lo stesso e lo stesso faranno Hitler, lo stesso aveva fatto prima ancora Mussolini per avere l'appoggio della chiesa, quantomeno la neutralità della chiesa, della chiesa cattolica, della rete dei parroci, ma meglio l'appoggio, allora che nel 1801 Napoleone riesce a divenire un accordo con la chiesa romana, con il Papa sulla base di un concordato, cioè di un documento che stabiliva che certo i vescovi, i preti francesi formalmente erano indipendenti, formalmente dipendevano dal Papa, ma di fatto erano subordinati allo Stato, cioè a Napoleone. In che anno il concordato? 1801. E quindi chiaramente a quel punto di fatto Fonda stabilisce una chiesa gallicana, cioè francese che dipendeva da lui di diritto dipendeva dal Papa, di fatto dipendeva da lui e quindi i parroci nelle prediche erano il suo megafono, anzi i suoi innumerevoli megafoni. Ecco perché da una parte credo l'abbiate capito, il sogno realizzato, beh, certo aggiungiamo altri elementi di centralizzazione, il codice civile, tutte le leggi, poi anche quello penale, ma i famosi codici napoleonici, la raccolta di tutte le leggi uguali per tutti su tutto il territorio nazionale, principio di uguaglianza giuridica, liberale, assolutamente garantito, possibilità di divorzio, matrimonio civile, sicuramente conquiste rivoluzionarie che vengono mantenute, la farvenza anche della democrazia con il suffragio universale maschile nei plebisciti, un sistema che ancora oggi viene chiamato, che ha inventato Napoleone, che viene chiamato il sistema democrazia plebiscitaria, o anche cesarismo, o anche buonapartismo, buonapartismo, però democrazia plebiscitaria ovvero non c'è parlamento, c'è un capo, c'è un capo, può anche essere un presidente della Repubblica eletto a suffragio universale, ma il suffragio in molti casi a quel punto l'elezione del presidente della Repubblica equivale al plebiscito, mi volete o non mi volete vedi Putin in Russia, vedi Erdogan in Turchia, e quindi in realtà il Parlamento magari c'è ma è secondario, democrazia plebiscitaria, perché c'è il rapporto diretto tra il capo e il popolo che magari se il capo è un presidente idem in Iran, il presidente della Repubblica che pure però è sotto la guida suprema però è eletto direttamente dal popolo in modo plebiscitario, anche perché in Iran non c'è possibilità di opposizione, non ci possono essere giornali contrari al regime, ok? però allora da un lato da un lato abbiamo detto quindi possiamo dire che oltre a realizzare il sogno di proibito di Luigi XIV effettivamente effettivamente stabilizza e garantisce i risultati della rivoluzione francese di tipo liberale cioè proprio i principi le riforme della prima fase della rivoluzione francese no ovviamente quella successiva quella democratica e quindi in questo senso così si può dire che forse fino fino al 1804 si può considerare Napoleone ancora parte della rivoluzione francese la rivoluzione francese si può ragionevolmente pensare si concluda con l'autoproclamazione di Napoleone imperatore perché insomma a quel punto i plebisciti spariscono quello è l'ultimo è l'ultimo poi basta non se ne fanno più e a quel punto poi si forma anche una sorta di nuova nobiltà però per concludere rapidissimamente avete il Cresferro anche colto magari poi lo profenderò la prossima volta perché è un preannuncio di totalitarismo appunto perché Napoleone costruisce un regime basato sul consenso di massa ovvero sul conformismo più totale certo avendo il monopolio dei mezzi di comunicazione avendo una polizia segreta spietatissima e ramificatissima ma alla fine grazie a sì a questi strumenti repressivi però a un certo punto non ha più bisogno di reprimere perché ha innescato il conformismo di massa il consenso di massa e ormai tutti gli danno il consenso perché ormai è stato stabilito è passato il messaggio che lui è il più forte il più fallibile il più grande non porterà chi è bene e invece